Mi chiamo Lorenzo Ruggera, lavoro all'ospedale di Padova, l'azienda universitaria, ho avuto oggi l'occasione di poter assistere in sala operatoria il professor Antonini negli interventi di impianto di protesi tricomponente del pene e sicuramente da sottolineare è come la standardizzazione della procedura che ha eseguito il professor Antonini e la limitazione al massimo della metodica e della tempistica rende questo intervento riproducibile con minime complicanze e potenzialmente con grandi risultati senza problematiche in futuro.